I segretari generali di Cigelle Cisle Will Calabria, Sposato, Russo e Santo Biondo, hanno avuto due colloqui importanti per i quali ringraziano la dottoressa Francesca Ferrandino, prefetto di Catanzaro, e l'onorevole Iole Santelli, presidente della regione Calabria. Al centro di entrambi gli incontri la sicurezza sul lavoro e la sanità, temi strettamente legati all'emergenza coronavirus, che richiedono di essere affrontati con la massima celerità e con ogni strumento disponibile. Nel colloquio con il prefetto Ferrandino è stato fatto presente in modo particolare la necessità di vigilare sull'applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Codiv-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto su invito del governo dalle aziende da Cigelle Cisle e Will. Il testo infatti contiene disposizioni importanti, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione, impone chiarezza nelle informazioni e condivisione delle misure con i lavoratori. Indica i passaggi fondamentali dell'azione di prevenzione, sottolineando la definizione di procedure e regole di condotta mirate e specifiche da delineare con un confronto previo con le organizzazioni sindacali e aziendali più rappresentative, tenendo anche conto del fatto che in molti casi il lavoro agile o il restare a casa non rappresentano soluzioni percorribili per i lavoratori sia per il tipo di mansione svolta sia soprattutto per la necessità di non fermare l'attività produttiva, in molti casi fondamentale per la tutela collettiva. Il prefetto di Catanzaro ha ascoltato e condiviso le preoccupazioni da noi manifestate, scrivono nella nota stampa i tre segretari sindacali, assicurando l'impegno delle istituzioni preposte per garantire l'osservanza del protocollo. Nell'incontro con la Presidente della Regione, Onorevole Santelli, proseguono sposato Russo e Biondo, abbiamo sottolineato come la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro si ponga con estrema urgenza per tutti gli ambiti lavorativi, a partire dalla filiera produttiva agroalimentare strategica per la Calabria. Abbiamo evidenziato la preoccupazione per la mancanza di dispositivi individuali di prevenzione anche per i medici, infermieri e operatori della sanità in genere, esposti in prima linea. Intervenire rapidamente e superare la grave carenza è quanto mai decisivo per tutelare queste persone, il cui lavoro è essenziale per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Così come è essenziale far sì che tutto il sistema della sanità calabrese sia messo in condizione di fronteggiare la grave emergenza in atto. È stata inoltre richiesta da parte nostra, dicono i segretari regionali del sindacato, ai fini della limitazione del contagio la chiusura domenicale dei supermercati. Sul versante dell'economia, continua la nota dei tre sindacalisti regionali, abbiamo posto all'attenzione della Presidente Santelli la necessità, in attesa dell'operatività del decreto del Governo sui temi economici, di costituire celermente la task force che dovrebbe vedere insieme regione, associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali. Ciò consentirà di avere immediatamente un'interlocuzione efficace nella gestione in questo momento delle risorse da utilizzare per il sostegno del già compromesso tessuto economico e produttivo della Calabria. Da parte sua, l'Onorevole Santelli ha assicurato che questo gruppo di lavoro è già in corso di istituzione e comprenderà con la regia della Regione, Cigelle, Cisle, Guille e associazioni datoriali, in modo da governare in maniera condivisa le fasi successive dell'emanazione del decreto. Nella nota stampa, i segretari generali di Cigelle, Cisle e Guille sottolineano di aver riscontrato grande attenzione e apertura da parte della Presidente della Giunta regionale Santelli, che ringraziano per la disponibilità al confronto, una disponibilità che da parte delle organizzazioni e dei lavoratori non mancherà.